Si fa nella mia città, si fa nella mia terra la Campania e quindi mi auguro che venga una grande riuscita. Io dico che l'università è importante per Napoli e per la Campania, non solo per la grandezza dell'evento, ma soprattutto perché sarà un evento dei giovani. Quindi Napoli e la Campania sarà la capitale dei giovani che provengono da qualsiasi parte del mondo in uno spirito di accoglienza, di apertura che questa terra ha sempre avuto. Quindi questi giovani avranno la possibilità di conoscere Napoli, ma soprattutto avranno la possibilità di conoscere tanti primati.